Macro categoria imprese, categoria finance. Il premio è quello di progetto digitale dell'anno finanza personale. La motivazione? Per aver creato la community sugli investimenti più grande d'Italia con oltre 500.000 iscritti sui principali canali social attraverso un'attività di consulenza finanziaria che fa leva su software e strategie operative di asset allocation e su corsi di formazione che hanno raggiunto le più alte percentuali di soddisfazione. The winner is IoInvesto. E abbiamo un doppio ingresso oggi qui nei nostri studi perché prima chiamo per ritirare il premio Danilo Zanni, uno dei soci fondatori di IoInvesto. Questo è tutto per voi. Grazie mille, grazie ovviamente è un piacere essere qua con voi. È veramente un onore vincere questo riconoscimento. Benvenuto. È stato un duro lavoro ma ne è valsa la pena. È certo, quindi mostriamolo bene al nostro pubblico. Questo è tutto vostro. Poi naturalmente lo porterete con voi ma prima ti chiedo di lasciarlo qui perché parlavo di un doppio ingresso. Intanto grazie. Grazie mille. Grazie, grazie. Invito a salire con me sul palco Alessandro Moretti, l'altro socio fondatore di IoInvesto. Eccoci qui. Eccolo. Prego, accomodati. Grazie. Poi anche tu lo prenderai. Questo premio, beh, intanto chiedo subito anche a te un commento a caldo per questo riconoscimento, soprattutto inserito in un contesto un po' complicatino come quello che stiamo vivendo. Ma siamo estremamente contenti di questo premio inaspettato e è stato un riconoscimento per tutto il lavoro che abbiamo fatto. Non solo noi che siamo magari l'immagine di tutta l'azienda ma di tutti i collaboratori che lavorano con noi, oltre 30 persone che stanno lì tutto il giorno, tutti i giorni, anche nel weekend a lavorare, cercare di fare il massimo per dare il massimo contributo a tutta la community, a tutte le persone che ci seguono. Quindi il merito va più che a noi, va soprattutto a tutte le persone che ci seguono, che lavorano con noi e poi che ci seguono anche da casa. Peraltro, perdonami, ma quando parliamo di investimenti ovviamente può essere una parola che fa un po' paura quando ci sono periodi di crisi, no? E invece evidentemente non la fa. Quindi partiamo dalla parola investimenti ma partiamo anche dalla parola community, una community che è diventata sempre più grande, tantissimi follower attraverso i canali principali, i social. Com'è possibile fare tutto questo? So che può essere una domanda da un miliardo di dollari, ma insomma cerchiamo di dare risposta a chi ci segue. Guarda, il segreto, se esiste mai un segreto, è quello di cercare di comunicare tutti i giorni, sempre, tirare fuori sempre contenuti, video, articoli, post e coinvolgere le persone perché la finanza sembra sempre un argomento molto difficile, molto freddo, distaccato. Le persone quando sentono parlare di numeri spengono il cervello, fanno tutt'altro. Invece bisogna riuscire a coinvolgerle le persone, fargli capire che la finanza è importante ma non è così impossibile da imparare. Bisogna imparare le basi come quando andiamo in macchina, nessuno di noi è un pilota di Formula 1, un ingegnere meccanico, ma tutti noi la mattina saliamo in macchina, riusciamo a metterla in moto e guidare in totale sicurezza cercando di ridurre al minimo i rischi di dare a sbattere, fare incidenti. Ecco, lo stesso deve succedere in finanza. Bisogna imparare le basi per cercare di investire i propri risparmi, imparare anche a risparmiare, gestire i risparmi in maniera sana e responsabile. Quello che diciamo sempre la finanza non è né un concetto astratto né qualcosa di nicchia. Riguarda l'economia di tutti i giorni, l'economia reale, quella che poi va a incidere direttamente sul nostro portafoglio e infatti la consulenza di cui vi occupate voi mira proprio a raggiungere quell'obiettivo, è corretto? Assolutamente sì. Noi come gruppo ci occupiamo sia di formazione, educazione finanziaria, cultura finanziaria, che in Italia ce n'è strabisogno e poi anche di attività di consulenza sia generica, come abbiamo fatto fino adesso, con creazioni di asset allocation, modelli di portafoglio generici, ma tra poco, siamo in attesa dell'iscrizione all'albo, faremo anche la consulenza personalizzata con la IoInvest SCF, che sarà appunto la nostra la società di consulenza personalizzata, per fare consulenza personalizzata. A giorni, diamo anche questa news a giorni o a settimana, a brevissimo, dovremo essere iscritti all'albo se va tutto bene, quindi inizieremo anche con quest'altro servizio. Beh, crociamo le dita, io penso una cosa, che già il successo che avete avuto insomma in tutto questo periodo testimonia quello che avete fatto e quindi che avete preso la strada giusta, aver comunque preso questo riconoscimento in un periodo difficile ancora di più e poi insomma anche questa news che ci hai dato in anteprima, quindi io ti ringrazio, è ancora più testimonianza che il futuro deve, ha ancora molto spazio d'azione, no? Assolutamente sì. Tantissimo, forse la maggior parte. Assolutamente sì. Prendi pure anche tu il premio, così chiudiamo con questa immagine. Naturalmente io ringrazio Alessandro Moretti e ringraziamo ancora Danilo Zanni, soci fondatori di Io Investo, complimenti a tutto il team per questo riconoscimento importantissimo, progetto digitale dell'anno finanza personale. Grazie mille, grazie a tutti. Complimenti, grazie. Complimenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.